Non si possono servire due padroni, la cupidigia e un'idolatria che semina divisioni. Lo ha ricordato Papa Francesco celebrando la messa nella cappella della casa Santa Marta. Durante l'omelia il pontefice ha rimarcato che Gesù non è contro le ricchezze in sé stesse, ma mette in guardia ad alporre la propria sicurezza nel denaro, che può fare della religione un'agenzia di assicurazioni. Così i cristiani sono chiamati a seguire l'esempio del figlio di Dio, che per la salvezza dell'uomo si abbassò e si annientò. Pensiamo noi quante famiglie conosciamo che hanno litigato, litigano, non si salutano, si odiano per un'eredità. E questo è uno dei casi. Il più importante non è l'amore della famiglia, l'amore dei figli, dei fratelli, dei genitori, no. E sono i soldi. E questo distrugge anche le guerre, le guerre che oggi noi vediamo. Ma sì, c'è un ideale, ma dietro ci sono i soldi, eh. I soldi dei trafficanti delle armi, i soldi di quelli che profittano con la guerra. E questa è una famiglia, ma tutti, sono sicuro, tutti conosciamo almeno una famiglia divisa così. E Gesù è chiaro. Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidiccia. È pericoloso. La cupidiccia. Perché ci dà questa sicurezza che non è vera. E ti porta, sì, a pregare, tu puoi pregare, andare in chiesa, ma anche avere il cuore attaccato. E alla fine finisce male.